E' stata aperta un'inchiesta sul cedimento della pista ciclabile in via Mazzini a Montemurlo con la voragine che ha inghiottito una spazzatrice di ASM, il cui conducente è riuscito miracolosamente a scendere in tempo dal mezzo. La procura ha avviato delle indagini per fare chiarezza sulle cause dell'incidente che venerdì scorso ha portato allo sprofondamento nel torrente stregale della spazzatrice. L'area dove è avvenuto il sinistro è stata posta sotto sequestro penale. Gli agenti della Polizia Municipale, proprio questa mattina, hanno apposto la segnaletica che impedisce l'accesso alla voragine, peraltro subito messa in sicurezza dall'amministrazione comunale dopo la rimozione del mezzo. E' importante che si faccia chiarezza su quanto è avvenuto, afferma il sindaco del comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini. Oltre all'indagine che stiamo portando avanti come amministrazione comunale, è bene che anche la procura lavori per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e le cause di quanto avvenuto.